Qual è stata la prima sfida appunto nel rendere dei personaggi che sono... Ognuno ha il suo personaggio, no? In questo caso, ognuno ha in testa, gli amanti del fumetto, il personaggio che voi interpretate. Quindi, com'è andata? Avete provato? Come avete costruito poi, partendo da zero? Sì, hai detto una cosa giusta. Cioè, ognuno ha poi una sua idea, perché poi anche la cosa bella è che ognuno nella lettura, che è una cosa che si fa poco privatamente, si formula in testa un'idea e quindi anche si rispecchia, si ritrova dentro zero secco i vari personaggi. In realtà sembra strano, sembra quasi... però non abbiamo provato tanto per cercare di sembrare più verosimili come zero secco armadillo, cercando di... di non tradire le aspettative di più lettori o le nostre. Ci abbiamo cercato anche di trovare, strada facendo, durante il lavoro che abbiamo fatto, quello che era la nostra idea poi del personaggio, visto che comunque andavamo noi a interpretarlo. Certo. Nel tuo caso, insomma, tu hai molte delle battute poi alla fine che sono... Sì, sì, sì. Poi molte battute fanno ridere perché il clima era... era credibile, insomma. No, per quanto mi riguarda, come dicevo prima, io mi ero saturato la mente di disegni appunto che raffiguranti secco, per avercelo chiaro in testa, e poi ho cercato con serenità di, insomma, di presentarmi sul set la mattina. Tutto il clima. E Valerio, la grande sfida era anche l'armadillo. Siamo vinta sta sfida. Sei pronto per fare il prossimo, non so, che vuoi fare? Sì, non so, ditemi voi. Signor Annelli o... Remake d'ETI. Com'era logisticamente entrare nei panni dell'armadillo? Tu come ci saresti entrato? Con difficoltà, questi signori. No, è... sì, appunto, difficoltoso, impegnativo, faticoso, lungo, laborioso. Però è interessante perché l'armadillo può essere un personaggio apparentemente così bidimensionale, in realtà è molta profondità, perché viene poi dal recondito del protagonista, no? Quindi, alla fine... Cioè, secondo te è bidimensionale nel fumetto? No, no, nel senso bidimensionale... No, non il contrario, nel senso che del fumetto bidimensionale per definizione è comunque un... Non è neanche CGI, come abbiamo intuito, però in realtà è appunto profondissimo, è recondito, è psicanalitico proprio. Sì, sì, è quello che tutti noi dovremmo ascoltare più spesso, perché esiste davvero. Cioè, è proprio il nostro io autentico, privo di tutte le... la formattazione poi che riceviamo dalla nascita in poi. E quello esiste, sta là. E le volte nella vita ti ritrovi a seguirlo così, senza averlo ipotizzato. E tu invece c'avevi due appunto, una parte del armadillo alla parte secco. Due padri spirituali. Molto diversi. Molto diversi, sì. E senti, invece, per quanto riguarda poi l'atmosfera, perché comunque il film come il fumetto c'ha da una parte la parte chiaramente manicomia, perché comunque era stata elaborazione del lutto, e dall'altra invece questa ironia. Quindi come vi si è trovati un po' a gestire le varie scene, i vari momenti, perché ci sono dei momenti comunque chiaramente drammatici? Eh sì, cioè non dovevamo banalizzare quel racconto, togliere insomma spessore drammatico, che comunque anche nell'ironia c'è. Ma come abbiamo fatto? Non lo so, abbiamo... Dal mio punto di vista era più facile, insomma, perché il secco è, per certi versi, è meno consapevole di determinate cose, quindi... Ma sì, manca zero poi alla fine, cioè cercano di elaborare una consapevolezza, si aggrappa la coscienza. Pensa un po'. E che tutto dire. Sì, apposta. Sì, apposta un po' a gestire.